PERCHE LUKE E LUKE 4317 non extra ma bensì speciale per cui attenzione alle parole ragazzi non extra ma speciale ragazzi sono contentissimo perchè ho finito la piramide quella lì l'ho finita chi non l'ha vista guarda si guardi 24 episodi per farla la sfida la grande sfida e sono contento ragazzi perchè sono libero sono libero cioè io ora posso fare ed essere qui oppure girarmi e non so come si stoppa però aspettate che non è partita la mod mamma mia perchè devo farlo in corsa forse da lì a lì in un batter baleno d'occhio ragazzi allora cosa faremo oggi andiamo ad una crafting table guardate la crafting table dov'è basta mamma mia tanto ormai posso tagliare quanto voglio perchè voglio tagliare questo pezzo lo taglio cazzo taglio che non devo fare niente allora ragazzi perchè sono in questa crafting table devo fare tanti cartelli perchè oggi siamo arrivati all'episodio speciale allora i cartelli cazzo sto combinando ma che cazzo sto combinando oh bello cosa sto combinando facciamo dei bastoncini findus li mettiamo qua facciamo cos'ha abbiamo fatto ben 32 cartelli dovrebbero bastare ragazzi perchè 32 cartelli sono 32 cartelli allora cominciamo con il primo screen plec eh proprio i rumori degli screen c'ho anche prima casetta iniziata e completata nell'episodio 04 per cui pubblicato l'11.1.2014 andiamo alla prima casetta che se vi ricordate ragazzi oggi ripercorriamo tutta la serie la prima casetta è quella lì cioè allora ciao cavallo eccoci qua alla casetta iniziale e ci andremo a fare anche una bella dormita ragazzi per cui tanti pollici in su per la dormita e logicamente sul comodino perchè non dormo sul letto ma dormo sul comodino ho deciso di farmi dormire sul comodino bene andiamo qui ragazzi e piazziamo il primo cartello qua mettiamo mettiamo l'episodio che è il 0 allora era così ep 004 non mettiamo l'inizio ragazzi perchè sono un macello i cartelli non bastano metto solamente quando è stata finita non quando è stata iniziata poi mettiamo la data che era l'11.1.14 per cui l'11 ehm 0.1 2014 aiaia due l'anno scorso 2014 mettiamo la casa più bella del mondo la casa la 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 bella mondo perchè non c'è stata la frase ragazzi sarebbe la casa più bella del mondo noi mettiamo la bella mondo che è l'abbreviazione no poi andiamo a capo e mettiamo lo stato che è finita ok pom primo cartello messo ragazzi primo cartello messo e devo ringraziare tutti di cuore tutti voi che mi avete fatto ora mostrerò delle screen a casa a casaccio però molti di voi mi hanno fatto tutta la ripercorrizione la ripercorrenza la 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 quella cosa lì di tutto il villaggio di tutta la la pianura padana di tutta la la serie andiamo alla seconda che è casa giapponese ossia questa cosa piccolina qua allora la casa giapponese è iniziata nell'episodio 8 ma finita nell'episodio 13 pubblicata il 22 1 2014 allora vium vium ragazzi eccoci qua mettiamo il cartello anche qui mettiamo la pezza anche qui lo metteremo qua sopra qua in alto si bam allora qua vorrei mettere sia l'inizio che la fine allora iniziata l'episodio 8 per cui mettiamo in in iniziata no allora dal vediamo se ci sta dal 008 no no non ci sarà mai al al 013 ci sta ci sta ok data della fine logicamente metteremo il 22 1 14 il 22 0 1 2014 bam mettiamo eh casa eh casa casa giapponese ci sta ui finita bam seconda struttura eh bollata ora andremo alla terza struttura che è la la le statue le due statue ragazzi le due statue queste qua chi se le ricorda le due statue scrivano nei commenti io hashtag io mi ricordo gli ucche poi qua c'era anche il segreto che non ho più continuato perché avete visto che cacchio ho fatto ragazzi le due statue sono bensì state costruite all'inizio no iniziate e finite nello stesso episodio ossia il 19 pubblicata il 6 2 2014 andiamo su una delle due statue io metterei qua no qua qua che questa l'abbiamo utilizzata molto di più eh bam allora abbiamo detto episodio ep eh che cazzo episodio è 19 per cui 0 19 venga ho fatto una cagata fatto una cagata ah perché poi c'era l'interno ok niente 0 19 ok andiamo a capo mettiamo la data che è il 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 28 1 14 per cui il 28 28 l'8 0 1 2014 eh queste sono le le statue statue finite che poi sono finite che cacchio c'entra ve lo mettiamo giusto per riempire la rigola vai andiamo col prossimo ora andremo alla forma di pannocchie vium vium ragazzi da quant'è che non scendo qua sotto da quant'è che non scendo qua sotto e visto che ci sono macchiappo pure le 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 pannocchie dai guardate eh ora userò la mod che ho già utilizzato per un po' di tempo fa che è quella della velocità sprint sprint eccomi tornato ragazzi guardate 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 questa è magia questa è magia e logicamente non vi dirò i miei trucchi ehm perché devo andare a raccogliere tutte le pannocchie adesso perché se no poi succede un patatrack ci vediamo tra poco vium vium ok tutto ripiantato lì ragazzi continua a fare i popocorn vaffanculo manca la luce vaffanculo vaffanculo allora questa non è finita vi ricordate mancavano le foglie lì per cui importante non è finita mettiamo il cartello qua sbam e mettiamo ep che vuol dire episodio allora allora la farm pannocchie iniziata è finita nell'episodio 21 0 21 0 21 ehm la data è il 12 il 12 02 2014 2014 2014 ehm questa è la farm farm pannocchie pannocchie non finita perché non è terminata bam ora andremo avanti ah no che andremo avanti devo liberarmi diventario prima ragazzi credo che non ce la farò fare tutto in un episodio vedremo ehm se non perdo troppo tempo magari lo dividerò in due perché sono diciamo che speciali ragazzi di percorrere tutto quello che abbiamo fatto in 150 episodi ok ci sono poche le strutture però è veramente figo emozionante soprattutto vai e per quelli che magari hanno visto la serie dalla fine avranno modo di guardare tutto in un video o in un paio di video le cose fatte anzianamente anni fa ora arriverà il secondo screen ecco qua la stalla andiamo alla stalla eccomi qua eccomi qua ragazzi alla bella stalla ve la faccio vedere facciamo un giro panoramico veloce qua ci sono tutte le selle le selli le selli di qua c'era l'uscita secondaria è una via di fuga diciamo una via importante le vie quelle principali di fuga non so per incendio per terremoto eccetera eccetera cose del genere stronzate del genere detto questo dobbiamo mettere un cartello lo cartello andiamo a vedere allora farm la stalla iniziata e finita nell'episodio 38 pensate l'ho fatta in un solo episodio pubblicata il 15 2 2015 e già siamo al 2015 ragazzi abbiamo fatto già un anno allora abbiamo detto episodio non mi ricordo più che numero 38 038 abbiamo detto la data il 15 il 15 il 15 il 15 0 2 0 2000 2000 qui sapete che mi sta puzzando qualcosa che tutti gli altri cartelli che abbiamo messo erano 2015 e non 14 ora eh giusto per sapete che sono un pirla dove andiamo a controllare questa è la stalla e logicamente finita andiamo a controllare i cartelli bam ragazzi ho ricontrollato i cartelli no sono pirla io è giusto è giusto è giusto sono passati già il 2015 perché sono stato quasi fermo un anno con questa serie dunque andiamo avanti andiamo alla farm di villager per cui allora la farm di villager ragazzi è iniziata nell'episodio 41 pubblicata ok è finita nell'episodio 46 dal 41 al 46 allora andiamo su come facciamo ad andare su facciamo un attimo così voglio mettere il cartello vabbè il cartello lo mettiamo giù qui c'entra ma che c'entra lo mettiamo giù il cartello anzi lo andiamo a mettere qua la farm di villager però la farm di villager in effetti è sopra perché sotto poi c'è la farm di ambaradam andiamo lo metto qua bam però se lascio cado no uh farm di villager abbiamo detto allora è iniziata l'episodio 41 per cui facciamo così ep 41 ditemi se meglio così o dal al 041 trattino 046 046 46 46 46 la data di fine lavori è stata il 17 2 2015 il 17 02 febbraio 2015 è farm farm villageri villageri finita voilà bam poi andiamo giù e dovrebbe esserci anche il cartello della farm di golem a parte o sbaglio vediamo un po' i carretti da una parte andiamo all'altra tium tium ok ragazzi i carretti sono questi qua uno è qui gli altri sono dietro come facciamo a farli porca loggia come facciamo a farli porca loggia voilà voilà i carretti ma non sono questi i carretti della perla i carretti magari intendeva quelli i carri che non sono carretti ma sono carri bravi allora andiamo qua che c'era quello chiaro quello scuro chi si ricorda questi episodi ragazzi ragazzi lo mettiamo qua in mezzo il cartello per cui mettiamo la data dei carretti è nell'episodio 47 iniziate e finiti per cui ep 40 047 la data mettiamo data 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 dei carretti il 18 2 2015 il 18 0 2 2015 i carretti mettiamo i carri e facciamo finiti finiti voilà logicamente ragazzi i carri mi hai chiuso minecraft ok sei ripreso ragazzi dicevo appunto intendevo che i carri questo cartello facciamo equivalere anche ai carretti così non si offendono ragazzi si è fatta anche notte abbiamo fatto già una buona parte siamo già oltre 10 minuti di registrazione per cui io per non ammosciarvi ancora di più vi direi che il video finisce qua ci vediamo nel prossimo video con la seconda parte e faremo tutte le altre strutture ancora un grosso grazie un grosso abbraccio grazie per il like e per la condivisione e per il grande commento che ora andrò a leggere per cui sono io dopo questo video sono nei commenti con voi vi aspetto ciao ciao